Amici di Arcoiris, benvenuti a leggere negli occhi la rubrica cura dell'Associazione Scrittori di Bologna. Oggi siamo ospiti delle librerie Filtrinelli che ci hanno cortesemente accolto e l'occasione per me è importantissima perché presento il libro di un caro amico, ma non solo, con una breve piageria che mi concederete all'intervista numero 120 della nostra rubrica, è un libro che ho condiviso con lui, nel senso che l'ho scritto proprio assieme a lui, quindi spero vi divertirete al gioco un po' insolito di vedere lo scrittore che intervista un altro scrittore sul suo libro. A partire da questa premessa scherzosa vi presento Maurizio Ferrara, Maurizio Ferrara è uno scrittore che già da 15 anni circa vive a Parigi, quindi l'occasione di averlo qua è anche piuttosto una occasione insolita. Nella sua biografia si leggono cose curiose, ha vissuto un po' ovunque, io lo so perché oltre alla biografia è un amico, ha vissuto un po' ovunque, anche in Sud America, in varie città europee, finché si è stabilito a Parigi ha iniziato la sua professione che svolge ad alto livello di traduttore, traduttore del francese, ha tradotto veramente i più grandi nomi della letteratura che si può tradurre dalla Francia, da Baudelaire, grandi classici, Dumas, eccetera, eccetera. Ma non solo, ha esordito nel 2000 con un romanzo molto interessante di ambiente sudamericano, affascinante, che si chiama Una scala per il cielo, uscito dall'editore Passigli e poi ha pubblicato in Francia una raccolta di racconti, il titolo non ve lo dico perché sicuramente ridereste della mia pronuncia. Bene, a Maurizio chiediamo, come facciamo sempre in queste occasioni, di introdurci alla lettura del suo, tra virgolette, nostro libro. Ecco, chi e cosa incontra? Chi apre il libro e si tuffa in Passione 1820 dell'editore Sironi, che è precisamente questo? Beh, la prima cosa che incontra, incontra il titolo dove c'è un anno, una data e infatti è un romanzo storico basato su una storia che si svolge nel 1820 e che è un anno estremamente interessante nella storia dell'Europa, nel senso che è un anno rivoluzionario, in quanto scoppia una rivoluzione in Spagna, scoppia una rivoluzione a Napoli, ci sono moti carbonari in Italia, Silvio Pellico alla fine di quell'anno viene arrestato a Milano insieme ai suoi amici, è quindi un anno rivoluzionario che segna per la prima volta, come dire, una sorta di rivolta contro la politica della Santa Alleanza che cerca di instaurare sull'Europa una cappa di reazione e che cerca di restaurare l'antico regime che è stato spazzato via dalla rivoluzione francese e poi da Napoleone. Chi incontriamo però, oltre alla storia con la S maiuscola, anche le storie private, personali, chi incontriamo nel romanzo? Dunque, incontriamo come in ogni romanzo storico dei personaggi inventati e dei personaggi realmente esistiti. Tra i personaggi realmente esistiti incontriamo un grande artista e un gran duomo che è Antonio Romanzo, è il maestro di uno dei nostri personaggi più importanti. Incontriamo anche un pittore francese, personaggio storico sempre, che poi resta comunque un po' misconosciuto, un talento in formazione perché muore giovane, muore giovane per una polmonite in seguito ai suoi vagabondaggi nella foresta di Fontainebleau. incontriamo dei personaggi storici che sono importanti sul piano politico e diplomatico, come soprattutto il cardinale Ercole Consalvi che era il segretario di Stato del Papa Pio VII ed è un personaggio estremamente importante e affascinante. probabilmente è il politico italiano più importante di questo periodo storico, a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento. Incontriamo poi un altro personaggio storico che è Tiberio Pacca, il capo della Polizia di Roma. Tra i personaggi inventati c'è il nostro eroe, tra virgolette, che è un giovane pittore francese che si chiama Jean-Lou Lagonnac e che arriva a Roma per aver vinto il Prix de Rome. Il Prix de Rome è una sorta di borsa di studio che esiste ancora oggi anche se viene assegnata con modalità diverse e una borsa di studio che consisteva nel premiare, dopo una serie comunque di prove, pittori, architetti e scultori con un soggiorno di cinque anni a Roma. Roma che era la capitale dell'arte, il paradiso degli artisti. Cioè fino alla metà del 1800 probabilmente Roma continua a essere la capitale dell'arte, poi è Parigi che diventerà la capitale dell'arte. Senti Maurizio, prima di entrare più nei particolari del romanzo per interessare ovviamente i nostri ascoltatori, volevo farti una domanda, un paio di domande un po' più di carattere generale perché il romanzo storico ha sicuramente stimatori, cultori e alcuni autori europei sono molto popolari proprio perché si dedicano a questo tipo di romanzi. Ma che cosa ha spinto te che hai scritto romanzi e racconti tutti ambientati ai nostri tempi oppure in una contemporaneità quasi o tempi recenti a tuffarti nella questa avventura che abbiamo appunto condiviso di dedicarci al passato, a un romanzo storico. Sia tu che io abbiamo sempre scritto cose di oggi o dell'immediato o ieri, come mai questo desiderio di dedicarsi poi al romanzo d'avventura, di cappespada perché potremmo definirlo in questo modo, qui ci sono tutti gli ingredienti del grande romanzo popolare ottocentesco e li abbiamo ricercati, come mai sei arrivati a questa scelta? Come mai siamo arrivati insieme a questa scelta? Faccio fatica a dire siamo. Siamo arrivati insieme a questa scelta, ti ricordo per esempio il fatto che probabilmente sia tu che io non abbiamo mai affrontato un genere di questo tipo, abbiamo sempre scritto cose completamente diverse e in un certo senso era anche una sorta di, diciamo, se non di sfida, di divertimento e quindi il romanzo storico, soprattutto un romanzo di cappa e spada contiene giustamente l'idea di divertissement, più di ogni altro genere se vogliamo perché prima cosa quando si dice romanzo di cappa e spada il pensiero corre subito ai tre moschettieri tre moschettieri, il protocollo prevede che si parli dei tre moschettieri Esattamente, poi tra l'altro noi dobbiamo parlarne visto che, come sai, nel nostro epilogo c'è Alessandro che entra in gioco e addirittura in prima persona racconta un epilogo. Quindi diciamo che penso che sia stata la novità per noi, ti ricordo comunque che avevamo pensato al principio, quando abbiamo lanciato quest'idea di scrivere insieme, avevamo l'idea di scrivere un romanzo epistolare, anche perché era una sorta di continuazione dei nostri rapporti. Nella tua introduzione non hai spiegato forse come ci siamo conosciuti, permettimi di farlo, di farlo nel senso che per anni tu e io ci siamo scritti senza conoscerci, la fisionomia dell'uno era sconosciuta all'altro e viceversa, l'uno era per l'altro. Siamo proprio scritti nel senso che... Scritti a mano tra l'altro, scritti a mano. Non avevamo ancora iniziato questo scambio elettronico, ma proprio lettere. Esattamente. E quindi diciamo un romanzo epistolare era un po' una sorta di replica di un gesto che per noi era abbastanza naturale, che era quello di scriverci. E poi invece abbiamo accantonato per fortuna quest'idea, perché il romanzo epistolare è pieno di insidie. Parecchie, parecchie, così abbiamo preso quest'altra strada. Senti, comunque un'altra domanda di carattere generale che mi interessava farti, perché mi è capitato di rado di parlare di romanzi storici, forse un'altra volta soltanto con un altro scrittore che si era cimentato in queste esperienze. Il romanzo storico, secondo me, conosce, come ho detto poi nell'abbrivio, dei conoscitori, degli appassionati, eccetera, eccetera. Per cui alla fine, secondo me, chi sceglie un romanzo storico lo fa perché ama quel tipo di narrazione. Ma ecco, scrivere un romanzo storico ha, secondo te, una valenza perché ci si occupa di un futuro lettore che sappiamo appassionato di questo, oppure il romanzo storico può parlare anche ai nostri tempi. Secondo te, chi legge il nostro Passioni 1820, che cosa può estrapolare? Al di là del piacere della lettura, della narrazione, il romanzo, perché anche i romanzi che abbiamo citato in precedenza, anche il Conte di Monte Cristo, per esempio, romanzi di grande velocità, leggibili, godibili, pieni di intreccio, avventure, avevano comunque una base molto solida sulla vita sociale, civile, dei periodi che raccontavano. Ecco, che cosa un romanzo storico può dire, come il nostro, può dire a un lettore di oggi? Ecco, parlando del nostro romanzo storico, bisogna essere franchi, nel senso che non c'è un grande aggancio con l'attualità. Spesso i romanzi storici sono simbolici, allegorici, eccetera. Il nostro invece parla di un'avventura che si svolge in quel periodo. Con un però, nel senso che è tuttavia un romanzo che si svolge agli albori del risorgimento e che ha un epilogo in pieno risorgimento, addirittura con l'avventura formatrice dell'Unità d'Italia, cioè con la Spedizione dei Mille. Tra l'altro la Spedizione dei Mille non dimentichiamo che è l'epopea bellica più romantica di tutto l'Ottocento. Non c'è in tutto l'Ottocento un'avventura che per romanticismo sia paragonabile all'impresa Nel Novecento c'è Fidel che prendono la barchetta e sbarcano a Cuba, ma prima... Sì, e prima se vogliamo anche c'è Lawrence d'Arabia, tra l'altro, ma comunque nel 1800 Garibaldi è sicuramente dal punto di vista... Cose così romantiche non se ne erano viste prima. Esattamente. E allora diciamo che come attualità, un punto di attualità potrebbe essere questo, che tra due anni c'è la celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia e il nostro romanzo, sia per personaggi sia per situazioni, è un romanzo a favore dell'Unità d'Italia, non c'è nessuna revisione nei confronti dei valori unitari del risorgimento e quindi questo può essere un aggancio con l'attualità. Ecco, se posso aggiungere qualcosa a questo proposito, devo dire però che ad esempio in questa miscela che abbiamo scelto di personaggi fittizi inseriti nella vita, costruiti dai personaggi reali come il Cardinale Consalvi, c'è anche ad esempio la famiglia Torlonia che sono sempre stati per generazioni banchieri della Chiesa, per cui a me sembra che, visti anche i tempi che corrono, parlare dei rapporti, di fare qualche pensierino sui rapporti tra Stato e Chiesa, come ahimè la Chiesa più che mai sia interessata ai risvolti economici, al lato mondano, credo che questo risalti moltissimo, pur parlando di una persona per molti versi integerrima come è stato il Cardinale Consalvi, era comunque una persona che ci fa capire in questo romanzo come la Chiesa sia molto coi piedi piantati per terra e non solo con le alucce degli angeli nell'Empireo, nel cielo, ecco, per cui credo che qualcosa si possa anche discutere ad esempio in maniera stuzzicante per chi legge con un occhio critico, ad esempio sui rapporti tra Stato e Chiesa e comunque questo dovrete leggere cari amici di Arcoiris perché è indispensabile. Ecco, addentrandoci un po' più nel discorso della nostra storia, uno dei personaggi, personaggio lo dico apposta, è virgolettato nei miei appunti, ma è un personaggio, uno dei personaggi principali della nostra storia è l'arte e l'arte con le sue espressioni, il mondo dell'arte, tant'è vero che i protagonisti sono un pittore francese e uno scultore bolognese, allievo di Canova, eccetera. Ricordo che ai primi tempi alleggiava nei nostri, nelle nostre prime pagine, nelle prime versioni del romanzo, alleggiavano tanti personaggi che poi in qualche modo sono passati in secondo piano, ad esempio Ingres. Bene, l'arte che in quei tempi lì conduceva moltissime vite, era quasi proprio un trisa nel tessuto sociale. Se ci penso oggi di poter scrivere un romanzo oggi con queste caratteristiche, quel tipo di eroi o anti-eroi, mi sembra impossibile, mi sembra impossibile perché vedo il mondo dell'arte e anche dell'approccio intellettuale al processo creativo, lo vedo così distante da questi eroi. In un certo senso li ho sentiti lontani perché noi siamo molto diversi. Come mai la scelta di fondare tanti moventi narrativi sull'arte? Il nostro ragazzo che viene da Parigi è un pittore, sembra quasi che non esistesse ancora il Partito Socialista perché non è raccomandato, non ha spinte di nessun tipo se non il suo talento. Ecco, perché l'arte abbiamo scelto come grande veicolo per noi? La prima scena si svolge con il nostro scultore nella cava di marmo che va a scegliersi il marmo giusto per le sue opere. L'arte come la vivi in questo libro, come l'abbiamo vissuta e cosa c'è rimasto oggi di tutta questa intensità che il mondo dell'arte aveva nella vita di quegli anni? Beh, intanto possiamo dire che anche dal punto di vista dell'arte abbiamo scelto un periodo che è fondamentale. Il nostro eroe, il pittore francese Jean-Luc Ragonnac è pittore di paesaggio storico. Diciamo che in quegli anni, nel 1820, il paesaggio per la prima volta comincia a diventare abbastanza importante nella pittura. La pittura è classicamente strutturata in generi, di cui ci sono generi più nobili e generi meno nobili. Il paesaggio è un genere meno nobile rispetto alla pittura storica. Allora noi facciamo giungere a Roma un pittore che in realtà, come in effetti accadeva in quel periodo, incomincia a interessarsi più al paesaggio. Siamo ancora un po' lontani dalla pittura dell'impressionismo en plein air, ma diciamo siamo su quella strada. Cioè il paesaggio storico con il quale il nostro eroe vince il concorso e arriva a Roma è un tipo di quadro per cui c'è tutto uno sfondo di paesaggio che può essere sul mare, sulla montagna, con rovine, con greggi o altre cose del genere, ma ci devono essere ancora delle figure umane, anche se più piccole. E là è un momento di passaggio nella pittura per arrivare al paesaggio privo di figure umane. E non soltanto in Francia, anche in Inghilterra basta pensare ai paesaggi di Constable. Questo per ciò che concerne la pittura, quindi diciamo è un momento abbastanza importante. Per quanto concerne la scultura, il nostro altro eroe Cosimo Morandi, lo scultore, un po' segue le orme non tanto del suo maestro Antonio Canova quanto del mitico Michelangelo. Infatti lo vediamo al principio della storia nelle cave di Carrara per scegliere un marmo. Scegliere un marmo significa passare là mesi, forse anche anni. Michelangelo per esempio per scegliere il marmo della pietà, se non sbaglio, ha impiegato un paio d'anni, insomma, prima di trovare il blocco giusto. Poi ha dovuto anche far costruire una strada per trasportare quel blocco, eccetera. Quindi diciamo sono degli artisti che vivono con intensità e se vogliamo con la parola che c'è nel nostro romanzo, con romanticismo, il loro destino di artisti. Ecco, ho menzionato un po', per introdurre questa domanda, agli ingredienti principali del romanzo popolare, proprio che abbiamo scelto, proprio abbiamo cercato di non perderne nessuno per strada e ci sono i carbonari, i moti, appunto gli intrighi delle corti papali, ci sono anche i miseri, tra virgolette, ci sono quelli che campano di espedienti. Sei convinto di essere riuscito a riprodurre, perché il tuo impatto, questo lo dobbiamo dire ai nostri ascoltatori, al romanzo è molto diverso dal mio, inizialmente si pensava proprio a qualcosa di più scoppiettante, forse anche leggero, invece il nostro è diventato un romanzo serio, soprattutto grazie al tuo lavoro preciso, accurato, puntiglioso e spietato, per quanto riguarda me, di ricostruzione storica, di immagini, di particolari. Questi ingredienti del romanzo popolare, sei convinto di essere riuscito a farli emergere, che nella lettura che dobbiamo caldamente consigliare ai nostri amici di Arcoiris venga rispettato l'impatto emotivo che un romanzo di questo tipo deve portare, perché potrebbe essere contestato, rischio che un'attenzione troppo spiccata a un particolare toglie fluidità alla storia, cosa che io non condivido, però potrebbe essere una delle accezioni che viene ingaffato da un lettore non convinto. A me piace questa definizione di romanzo popolare, mi piace moltissimo, sei sicuro di essere riuscito a mantenere un romanzo popolare? Sì, anche perché non bisogna dimenticare che è un romanzo divertente, nel senso che c'è un forte elemento comico che è affidato a un paio di personaggi, cioè il nostro scultore che è una stazza d'uomo, un'allegria ridanciana, generosa, eccetera. E poi c'è anche un personaggio comico, involontariamente comico, che è il conte milanese, archeologo, dilettante, che tra l'altro ha partecipato a tante campagne di scavi in Egitto, nelle isole greche, eccetera, e che è un portatore di teorie strambe. Quindi c'è anche molta comicità e la comicità fa parte del cocktail, se vogliamo, che forma il romanzo, il feuilleton, per usare una parola tecnica. Ci sono anche tutte le altre, vorrei ricordare, c'è il sesso che va benissimo, perché il nostro giovane protagonista viene svezzato alla vita dell'aristocrazia romana da una marchesa che sa bene quello che vuole, gli strumenti per ottenere quello che vuole, gli conosce benissimo. Sì, poi volevo anche dire che è vero che è un romanzo che assolutamente mi sembra e ci sembra, anzi, che dal punto di vista storico è ricostruito con un'attenzione estremamente importante. Però non è un romanzo erudito, parola che potrebbe far paura ai lettori, è un romanzo in cui c'è una spruzzata di erudizione, affidata a cosa, a aneddoti, a notizioni storiche e artistiche, a curiosità di usi e costumi dell'epoca, eccetera. Ricordo un altro personaggio a questo proposito che io amo tantissimo, che è l'amico inglese di Jean-Lou Lagonnac, che è un medico e quindi siccome Jean-Lou è affetto da malaria, deve fare controlli, mantiene un legame con questa persona che secondo me è uno dei personaggi più riusciti, sarcastico, un po' cinico, cattivo, ma profondamente umano anche in questo. Senti, del nostro romanzo ne abbiamo già parlato bene, ma io ho voglia di entrare come sempre in questi tipi di incontri anche nel laboratorio dello scrittore. Ecco, tu sei un apprezzato traduttore dal francese all'italiano, hai già un apprezzo impressionante mole di titoli nel tuo curriculum tradotti, ma non solo, sei molto impegnato anche adesso in nuove operazioni letterarie in questo senso. Sono molto curioso perché per uno che ha fatto come te mille mestieri, ha girato tutto il mondo, ha stazionato in varie città, eccetera. Quando è scattata la molla che ti ha detto, diavolo, questo è il mio mestiere, è qui che c'è il mio desiderio, la mia passione di andare avanti, come professionista, diciamo. Beh, se racconto questo non va a mio vantaggio, perché è una molla che è scattata molto presto, insomma, quando ero piccolo, quando stavo a scuola, però una molla che si è rotta subito, nel senso che poi dopo i primi tentativi che posso aver fatto alla fine del liceo e durante quegli anni alla fine del liceo più o meno ho abbandonato la possibilità di mettermi a scrivere per pensare a altro, dico in questo modo. Comunque ecco, la molla, la prima scintilla se vogliamo, è lontana. Poi invece posso dire che anche se la letteratura non l'ho scoperta tardi, l'ho scoperta prima, però devo dire che il mio trasferimento a Parigi ha contribuito a una certa stabilizzazione della vita, se vogliamo, per cui scrivo con una certa intensità da 15 anni. Ecco, tra l'altro voglio ricordare ai nostri ascoltatori che hai iniziato, perlomeno io ti ho conosciuto come nel tuo lavoro di traduttore quando è arrivato in Italia Yasmina Cadra, che è stato subito un caso letterario, tu hai tradotto proprio il primo romanzo che ha avuto un grande impulso per questa figura di scrittore algerino. E la cosa che secondo me è più interessante di quello che hai detto, è che tu lo ritieni un lavoro creativo di scrittura, si pensa sempre che il traduttore sia un tradugno tra uno scrittore e l'altro però come una cosa quasi tecnica, invece la componente creativa tu lo definisci scrittura non traduzione e questo è molto bello perché credo che sia quasi un po' equivoco la figura del traduttore sempre, a parte alcune figure in Italia, nel mondo letterario italiano che sono quasi assurti a miti perché Hemingway voleva essere tradotto solo da questo eccetera eccetera, per il resto si pensa a una cosa molto tecnica al lavoro della traduzione, invece è altamente creativo. creativa sicuramente e poi anche se per esempio io è un lavoro che faccio da molti anni ormai ma non è che possa tirarne fuori una teoria, né voglio tirarne fuori una teoria, però so perfettamente che è un lavoro di creazione, ci sono delle volte che è veramente una sfida tra il traduttore e il testo che deve affrontare e sfide che riescono più o meno bene, tu parlavi del libro di Yasmina Catra, Morituri, quello infatti era uno dei libri più difficili che ho fatto ma ce ne sono altri e lì diciamo che chiaramente io considero questo tipo di lavoro come all'aterie della scrittura personale ma insomma… Concedimi un aneddoto che penso possa interessare chi ci ascolta che riguarda proprio la nostra conoscenza a distanza, quando ricevete una lettera e discutemmo per due o tre lettere sulla… tu avevi tradotto Po, Baudelaire che parlava di Po e quindi avevi un problema fantastico che io ho trovato fantastico, la differenza, riuscire a fare risaltare le sfumature di senso tra imagination in inglese e imagination in francese, per cui io quando lessi questa lettera dici cavolo ma allora c'è un sacco da fare, non è che ti puoi mettere lì con un vocabolario e risolvi il tuo problema, per cui lì quello per me fu un momento di illuminazione sul tipo di lavoro che fa il traduttore, senti ma al di là del traduttore, lo scrittore ormai è già al terzo libro e sicuramente ha il progetto davanti, che cosa c'è nel tuo progetto, nel tuo computer cosa sta bollendo, sobollendo per venire alla luce? Sì, come tu sai, visto che ormai ci conosciamo bene, è un sobollimento, se permetti che è molto lungo, nel senso che sì, ho cominciato a… Non sei uno scrittore torrenziale come me. Torrenziale e poi se vuoi, credo anche non è che abbia molto tempo, visto che dedico molto tempo alle traduzioni, ma credo di impiegare, come è successo tra l'altro con il nostro romanzo, di impiegare 4 o 5 anni per un libro e sarà la stessa cosa per quello che è in cantiere, ma è un cantiere molto lungo. E hai comunque scelto ormai questa strada del romanzo storico? Per ora, nel senso che non è una strada definitiva. Posso farti l'esempio, oddio, ho anche un po' paura di nominarlo, ma insomma, visto che ormai mi sono lanciato, di Flaubert, nel senso che Flaubert prima scrive un romanzo di storia contemporanea, Madame Bovary, e il romanzo successivo è un romanzo storico, Salambeau, Salambeau va indietro. Poi ne scrive un altro, L'Education Sentimentale, che è anche lui di storia contemporanea. Poi torna di nuovo indietro alla Tentation de Saint-Antoine. Quindi questo per dire che si può scrivere il romanzo storico e il romanzo di storia contemporanea. Bene. Allora, io, Maurizio, ti ringrazio tanto di essere stati con noi. E ovviamente il libro Passione 1820 è stato scritto da Maurizio Ferrara e dal sottoscritto. Lo pubblica l'editore Sironi. E visto che noi parliamo di rete, potete avere notizie su questo e altri libri, su www. www.sironieditore.it Io ovviamente non posso esimermi dal chiederti la personalizzazione del nostro libro, perché è una mia consuetudine, ma non solo, è una mia ansia di collezionismo e quindi devo coltivarla. Noi ci dedichiamo intanto alla nostra perla conclusiva, che questa sera sarà veramente un piccolo tocco leggerissimo dedicato al nostro amore per i libri ormai così intoccabile per quanto riguarda me e per voi che so che ci ascoltate. Sentite questo bellissimo consiglio di Elias Canetti. Leggere finché le ciglia risuonino leggermente della stanchezza. La trovo un'immagine bellissima perché quella strano e dolce sapore che si ottiene leggendo non si ottiene in nessun altro modo. Bene, cari amici, devo fare un ulteriore appendice a questa conversazione perché sono passati cinque anni dall'inizio di questa rubrica, di leggere negli occhi. Iniziamo infatti con un'intervista a Maurizio Matroni nel lontano novembre del 2004. Adesso nel novembre del 2009, a 120 interviste, questa rubrica termina, termina per motivi contingenti, non certo perché termina il nostro amore per i libri, il nostro amore per la lettura, anzi, ma perché il sottoscritto purtroppo ha altri impegni. Io raccomando a tutti semplicemente di continuare nella fruizione di un mezzo così virtuoso come può essere quello della tv in rete e in particolare della nostra tv. Voi sapete che Arcoiris è una televisione strettamente legata al mondo civile, del volontariato, dell'attenzione alle libertà di tutti i tipi, civili, politiche, sociali, tutto quanto. Quindi termina una rubrica, ma non termina certo la meritoria edizione di edizione, gli abituali impegni che Arcoiris propone. Non termina neanche il nostro splendido archivio di interviste a scrittori, quindi in questi anni ho visto che le interviste non sono mai ferme. Se vado a vedere le interviste di qualche anno fa, sono sempre nuovi ascoltatori che riescono a trovare. Quindi conservate un buon ricordo di questo leggere negli occhi, continuate a leggere con la passione che avete sempre fatto e continuate soprattutto a guardare, ascoltare e analizzare criticamente questo grande spazio di libertà che ancora la rete ci concede, in particolare con Arcoiris. Grazie a tutti, non posso dedicarmi questa volta al saluto abituale, a livelleci alla prossima volta, spero che continuate a seguirci con amorevole simpatia come avete fatto finora. Grazie a tutti e ciao. Grazie a tutti.